ragazzi benvenuti in questo nuovo video allora prima di tutto lasciate un like per questo video e inscrivetevi e magari non permi guardate come va come vedete oggi siamo con il telegamer e siamo con le becchie e con i pezzi ma vedete sono di più qua vi faremo vedere bene un attimo no è finita bene ecco due li abbiamo presi a corretino non si sa come abbiamo fatto ma erano quasi ma è ricco che con caldo hanno messo la tata e pensavano che il retino era la loro faccia prendiamo una ecco e si non vedete è bello cioè vi consiglio anche nel tavolo dico ok allora con le macchiate con le macchiate tutte le neve che guardate quanti sono le frede 1,2,3,4,5 e lo devi vedere adesso lascio mandare un po' più a lui su con le macchiate Come vedete questa è la più grande, questa è la più grande, mi metto lì. Adesso vi do la nostra portata, siamo a due, ora adesso questa fa non è affamolata, questa non è affamolata, questa non è forse affamolata, ok come vedete abbiamo le messe qua, io ho fatto quella più grande, adesso la faccio con la costina, nuova perché non è la costita è scorta di sangue, mettiamolo la, ah comunque è pesante un chilo e quanto? un chilo e due e cinquanta, un chilo e tre, 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 altanto eh, vabbè un chilo altanto, c'erano qualcuno che ne ha presi tantissimi, uno gli si è spezzato da tutte le trote, perché ce n'era una larga tutta la busta, calcolate fino a là, guardate quante, calcolate questo un bel po' eh, poi più una che non è salmolata, ecco forse questa non è salmolata, adesso la portiamo e le mettiamo nel frigo, non vanno nel freezer, no, quella nel freezer ce le metterà chi poi le cucina o chi non le cucina, oggi sono ancora fresche, poi decideranno chi prende le trote se congelarle o mangiarle subito, vedete questa qua, questa è stata la prima perché è tutta sporca di sangue e l'avevo pesata, e niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto e ciao ciao, tutto è da Matteo, ah, iscrivetevi al canale, lasciate tanti like e tanti commenti, ciao ciao!